Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte e al caffè Buongiorno a chi con c'è E al mio amore buongiorno per dirne che lei Che per prima il mattino vede il mio corbeio E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche per me Buon inizio di giornata a tutti voi gentile pubblico di Rossini TV Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del mattino con l'informazione dei quotidiani locali L'informazione di Buongiorno Rossini, il nostro consueto spazio che vi trasmettiamo sempre in diretta A partire dalle 7.20 come in questa giornata di oggi, giovedì primo giorno di giugno E dunque come sempre andremo a vedere i quotidiani locali Ma vediamo un'anticipazione che in qualche modo abbiamo già preannunciato più volte in questa settimana Quella dell'importante variazione che cambia da oggi nel nostro palinsesto dell'informazione Perché dal primo giugno a nuovi orari Rossini News, il nostro telegiornale della sera Non più alle 19.40 la prima edizione, bensì 10 minuti prima alle 19.30 Prima edizione con tanto di diretta Facebook Cambia anche la prima replica, non più alle 20.40 ma alle 20.30 E poi vi ricordiamo le altre repliche, 23.30 e mezzanotte e mezza E poi il giorno seguente alle 6.30 di mattina e alle 13.30 Dunque questa sera vi diamo appuntamento alle 19.30 Ve lo ricordiamo anche in questo nostro spazio Ve lo ricordiamo, torniamo a informarmi con questo nuovo orario Che diventerà stabile da questo mese di giugno in avanti La regia anticipa anche lo sguardo sulle webcam del nostro territorio Quello che ogni mattina vi presentiamo In questo caso la webcam di oggi viene dalle colline fanese di Montegiove E' una webcam mobile che mostra i dintorni di questa mattinata Prima mattinata di giugno intorno a Fano E ora andiamo sui titoli, sulle prime pagine delle notizie di oggi Per quello che riguarda i quotidiani locali, il resto del Carlino Cronaca di Pesaro e Corriere Adriatico E cominciamo dal Corriere questa mattina Vediamo la prima pagina AST il risico delle strutture AST a cronico di aziende sanitarie e territoriali Lo ricordiamo ancora, non c'è più l'Asur dal primo di gennaio scorso Esistono queste 5 aziende sanitarie per provincia Vi abbiamo parlato anche ieri delle nomine dei nuovi direttori generali Però qua si fa un passo avanti Il nuovo ospedale di Moraglia ad esempio scalza la cittadella della psichiatria E si va alla ricerca di altre sedi Bando per trovare locali in affitto dove trasferire posti letto e ambulatori Serviranno per altri 6 anni E poi si parla dell'aeroporto di Ancona Voli scontati dal primo di ottobre Per quello che riguarda le tratte tra Ancona e Roma Ancona e Milano e Ancona e Napoli Altra notizia al di fuori della provincia di Peso Rubino E' quella che riguarda Luca Traini Poeta respinto, niente finale del concorso Iesi non vuole il tra virgolette pistolero Che nel 2018 Macerata sparò all'impazzata Ferendo 6 immigrati di colore Per vendicare alla sua maniera Pamela Mastropietro Ora andiamo alla cronaca Diverse notizie oggi Così come quelle che abbiamo raccontato ieri Come questa muore schiacciato dal tronco dell'albero Che stava potando Avvenuto sul San Bartolo Alle porte del San Bartolo Nella prima curva della panoramica Avvenendo da Pesaro Tavuglia per più di 10 anni Insulta e minaccia il vicino di casa gay Afano deruba e picchia la madre per l'eroina Lei lo denuncia E poi il caso della discarica di riceci L'EPD sconfessa Marche multiservizi Ricci mai informato Discarica di riceci Si schiera al partito provinciale Colture biologiche per l'entroterra No ai rifiuti E poi il calcio Come vi abbiamo raccontato anche nel nostro TG di ieri La VIS ha confermato il tecnico Simone Banchieri Anche per la prossima stagione Questa è la prima pagina di oggi Per quello che riguarda il Corriere Adriatico In questo primo di giugno Andiamo a vedere i titoli delle Carlino Foto notizia di prima pagina Dedicata a quella che è stata anche l'apertura Ieri del nostro TG Questa morte terribile di Mario Zaffini 58enne che non era in pensione Era andato in pensione da nemmeno un mese Ed è morto schiacciato da questa quercia Tagliava i rami Ma il tronco gli è rovinato addosso Poi l'inferno della droga sotto casa Mira al fiore la rabbia e la paura dei residenti di via Cimarosa Noi spettatori inermi dello spaccio intervenite Anche qua mamma coraggio denuncia il figlio La picchiava per avere l'eroina Almeno 30 aggressioni denunciate da questa donna Il mio diario il bullo si batte anche leggendo un fumetto Lezione della polizia alla scuola Gaudiano Taglio alto di prima pagina Dedicata a un'altra notizia Che abbiamo ampiamente argomentato Nel nostro telegiornale di ieri Ovvero la madonnina dei cappuccini Che si rifà la testa Così restauriamo la statua semidecapitata dal terremoto Dal 5 giugno le operazioni Al via di questo intervento Che lo ricordiamo È promosso dai Lions Club Peser della Rover Con un importante finanziamento della Renco SPA Ultima notizia di prima pagina Ci porta a Colli al Metauro Dove c'è stato un grave incidente stradale Fuori strada contro un albero Grave una ragazza La dipendente di una panetteria di 32 anni Stava facendo il giro di consegne È intervenuta l'eliambulanza a Villanova di Colli al Metauro E dunque queste le notizie di questo primo giugno Proposte dalle due prime pagine di Corriere Adriatico E resto delle Carlino Sul quale rimaniamo E cominciamo proprio dalla notizia di cronaca Sulla quale ci siamo concentrati anche ieri nel nostro telegiornale Schiacciato da una quercia Il tronco gli cade addosso Mentre lui taglia i rami Morto il 58enne Mario Zaffini Che come si ricorda era in pensione Da neanche un mese Lascia la moglie e due figli Mario Zaffini abitava in Via Lago Maggiore In zona Villa Ceccolini Ed era un extra pezziere Con questa passione hobby anche per la botanica E questi interventi di giardinaggio Aveva chiesto il permesso di intervenire Su questa quercia caduta con l'alluvione Stava tagliando i rami Ma poi il fusto gli è rotolato contro Uccidendolo in maniera davvero drammatica Sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri Che hanno avviato le indagini Sulla dinamica che ha portato al decesso E poi lo zoo di Berlino sotto casa Parco Miralfiore e la rabbia Dei residenti si bucano all'aperto Questa segnalazione Dei residenti di Via Cimarosa Nel parcheggio un viavai di consumatori Spesso giovanissimi Gli abitanti chiedono tre rimedi Telecamere, la guardia O il disboscamento di quell'angolo Qua si ricorda Qua vedete alcune foto Tra l'altro recapitate Da alcuni residenti Di un viavai di personaggi Loschi Che a detta dei residenti Sono riconducibili allo spazio Al consumo di eroina E a quanto pare Non è bastata la maxi operazione di novembre Quando furono arrestate 19 persone Tutte nigeriane Da questa operazione dei carabinieri Che fu nominata I cento fiori Voltiamo pagina E passiamo al diario Della legalità Questo intervento Della polizia di Pesaro Che è andato a fare una lezione Alla scuola Gaudiano Per vincere il bullismo A volte basta anche un fumetto Si tratta di un materiale divulgativo Alla portata dei bambini Che è stato presentato proprio dalla polizia Che ha dato appunto Una lezione di senso civico E di legalità E poi come detto anche ieri Nel nostro telegiornale Si sta per porre rimedio Alla madonnina dei cappuccini Alla statua semi decapitata Dal terremoto del 9 novembre Fu una sorta di immagine simbolo Di quel sisma Nella nostra città È stata annunciata l'opera di restauro Grazie all'impegno Di Lions Club Pesaro della Rovere E al contributo Di Renco SPA Tutti i frammenti Verranno incollati Il cantiere sarà A 10 metri di altezza Via ai lavori Previsto Dal 5 di giugno E poi Passiamo A questa notizia Nell'inferno della droga Mamma Coraggio Denuncia il figlio Violento Una peserese residente a Fano Ha raccontato Alle forze dell'ordine Le minacce E i maltrattamenti Subiti dal 26enne Schiavo dell'eroina Questa È una foto Di archivio Che Non rappresenta La 56enne In questione Che ha raccontato Testimodianze scioccanti Svuotava a casa Arrivando a vendere Anche Gli elettrodomestici Gli elettrodomestici E mi seguiva E mi pedinava Per scipparmi La borsa Una storia drammatica Di Un dramma familiare Legato dunque All'inferno della droga Si è spenta L'età di 84 anni La ceramista Maria Luisa Tamburini Molto nota Nel quartiere Del Porto Un quartiere Che la vide Per anni esprimere Il suo talento ceramista Lei aprì La sua prima bottega Nel 70 In Viantinore Nell'86 Si trasferì In Via Cecchi Dove è rimasta Fino al 2004 Domattina Alle 11 Il funerale Nella chiesa Del Porto E poi La discarica Di riceci Si allarga Il fronte Dei no Prendono posizione Contro questa Realizzazione Di impianto Nelle colline Di Gallo di Petriano Anche Marianna Bruscoli Della tenuta Santi Giacome Filippo E Giro Lomoni Della cooperativa Biologica Così come La federazione provinciale Del PD Dunque Sempre più largo Il fronte Del no Alla discarica Non è solo Un problema economico Dicono Si intacca Una sfida culturale Che mette al centro I piccoli agricoltori Ci soffermiamo Su due Spazi pubblicitari Non sono notizie Ma sono comunque Informazioni Su due eventi Che tra l'altro Saranno seguiti Anche dalle telecamere Di Rossini TV Come vi abbiamo anche Annunciato in questi giorni Parliamo del Brodetto Fest Di Fano Che viene inaugurato Proprio questa sera Alle 18.30 Al Lido Ventunesima edizione Di questo festival Che valorizza Un prodotto Tipico Del nostro mare adriatico Della cultura marinara E della tradizione culinaria Fanese Si comincia Questa sera A Lido di Fano Per quattro giorni Con circa 50 appuntamenti Dalle degustazioni Agli approfondimenti Altro appuntamento Che viene ricordato In questa pagina Pubblicitaria Dal resto del Carlino E che seguiranno Anche le nostre telecamere E' la seconda edizione Di Eco Fest Questo festival All'insegna Del rispetto Per la vita sulla terra Tante iniziative Da domani Al 5 di giugno Alla fondazione Osi Riviera Che si trova Nelle colline Del San Bartolo Proseguiamo Con le notizie Del resto Del Carlino Ricordandovi Che da domani Comincia La pedonalizzazione Di Viale Trieste Un esperimento Confermato Per il quarto anno Consecutivo E tra l'altro Come vi abbiamo ricordato Anche nel nostro telegiornale E' arrivata Anche una mini spazzatrice Per implementare Le pulizie Di queste vie Più trafficate Dunque Domani Stop alle auto In Viale Trieste Il comune Cerca di renderlo Sempre più attrattivo Anche con questa pulizia Più efficace Offerta Dalla Macchina Mini spazzatrice Offerta Da Marche Multiservizi Altro appuntamento Di domani E quello naturalmente Istituzionale Con la festa Delle 2 giugno Come vedete Ve l'abbiamo anche annunciato ieri Sarà una festa Davvero popolare Un po' meno istituzionale Ma con grande partecipazione Anche delle scuole Dei cittadini In Piazza del Popolo Altro appuntamento Che sarà Seguito Dalle telecamere Di Rossini TV Tutti appuntamenti Che poi Vi proporremo Nei nostri spazi informativi E canali social Domani dunque Festeggiamento in piazza Palazzo Ducale Aghindato dunque Con questa tricolore Già visibile Dal tetto Ai piedi Del palazzo Della prefettura In questi giorni Anche diversi curiosi Si sono fermati in piazza Ad osservare Le manovre Dei vigili del fuoco Per questi Addobbi Anche complessi Nel loro allestimento Passiamo a Fano Ieri Con ampio Anticipo E' stato presentato Il carnevale Del 2024 Il carnevale Di Fano 2024 Nella cornice D'eccezione Del Parlamento Europeo Di Bruxelles C'è stata anche L'eurodeputata Alessandra Mussolini A fare da madrina Del carnevale Voulon Che conquista Il palco europeo E' presentato Anche E' presentato Soprattutto il manifesto Che è stato firmato Dall'artista Degli effetti speciali Andrea Giomaro E poi La politica A Fano Con il pasticcio Che riguarda La variante Di Centinarola Che ha Spaccato La maggioranza In consiglio comunale Nel PD Volano gli stracci Dopo la bocciatura In consiglio Della variante Per il supermercato Enrico Nicolelli Che vedete in foto Si la prende Con i soliti E l'opposizione Si scatena A casa Dunque Un dissidio interno Su questa variante Ha portato Tra l'altro L'opposizione A chiedere Le dimissioni Del sindaco Seri Che sembra Non avere più La maggioranza Compatta Sindaco Che lo ricordiamo E negli ultimi mesi Nell'ultimo anno Del suo mandato Andrà Alle elezioni Amministrative Nel 2024 Così come Il comune Di Pesaro E poi Passiamo A Questa notizia Che riguarda Un incidente stradale Avvenuto a Coglie Al Metauro All'alba di ieri Sbanda E finisce Contro un albero Ragazza Soccorsa Nelle ambulanze Schianto Le 6-3 quarti di mattina Villanova di Colle Al Metauro La 32enne Era Dipendente Di una Panetteria Della zona Stava effettuando Le consegne Per caso Di accertare Il suo furgone Opel Combo Ha perso Il controllo Ed è finito Come vedete In questa fotografia Davvero Spaventosa Infatti C'è stata La necessità Di un soccorso In eli Ambulanza Per questa ragazza Ad Urbino Si parla Di lavori pubblici Ieri li ha presentati Il sindaco Gambini Dal teatro Allo stadio Allo centro Partono I cantieri Tante impalcature Per quello Che è L'effetto Dice Gambini Di un bilancio In buon equilibrio Che ci consente Di fare I lavori A scapito Anche un po' Dell'estetica Perché Un gioiello Come il teatro Sanzio Davvero Di rimpettaio Del palazzo Ducale Sarà completamente Avvolto Dai ponteggi Per diverso Tempo Tanti altri cantieri Di carattere A cominciare Da quelle Dei voli Su Roma Milano E Napoli Dal primo ottobre Qua vedete Alcune tratte Con i prezzi Ad esempio Si può volare A 65 euro Su Linate A 60 Su Fiumicino E a 60 euro Su Capodichino Di Napoli Contestualmente Si sospendono I cantieri Sulla 14 Per favorire I vacanzieri Un problema Annoso Soprattutto Sulla Versante Adriatico Del sud Delle Marche La careggiata Sarà senza Ostacoli Nel suo Accesso All'Abruzzo In questo Mese Di giugno Passiamo Ora A Una Presentazione Di una Nuova Di una Nuova Aspetto Sanitario Della nostra Regione Ovvero Quella Le farmacie Di comunità 270 Sportelli Salute Per 40.000 Cittadini Nelle Marche Avviate Alla prima Sperimentazione In Italia Di nuovi Servizi Non solo Vedita di Farmaci Ma anche Una consulenza Aggiuntiva Dall'uso Corretto Dei medicinali Alle terapie Per il diabete Dagli screening Ai vaccini E poi Andiamo Alle notizie Su Pesaro Che Anche qua Riguardano La sanità C'è Qualche Anticipazione Su quello Che sarà Il nuovo Ospedale Di Muraglia Che Per la Realizzazione Scalza Il servizio Di psichiatria Da Muraglia E ora L'azienda Sanitaria Cerca Altre sedi Un bando Per trovare Strutture In affitto Dove Trasferire Posti Letto E Ambulatori Si smembra La cittadella Della salute Mentale I locali Serviranno Per sei Anni Nel Corriere Adriatico Ci viene Anche A maggiore Chiarezza Esplicativa La tabella Riepilogativa Di quello Che è questo Risico Delle strutture Sanitarie I lavori Per il nuovo Ospedale Settembre Settembre 2024 Si cercano Nuove sedi Come detto Nel titolo Entro il 25 luglio Le proposte Poi la trattativa Sui costi Del contratto Per sei anni Resteranno Nella struttura La struttura Residenziale Reabitativa E il CSM Vanno invece Fuori città Le due Comunità Protette E la RSA Tomasello E poi Ve l'abbiamo ricordato Anche nel nostro Tg di ieri Sarà Nadia Storti Il nuovo Direttore Generale Dell'azienda Sanitaria Territoriale Pesaro E Urbino Dopo Cinque mesi Del commissario Stardinario Gentili L'ex Direttore Dell'Asur Delle Marche In un momento Delicato Come quello Degli anni Della pandemia A presiedere La sanità Della nostra Provincia E poi Passiamo A Un argomento Che abbiamo anticipato Nei giorni scorsi Ovvero Un'analisi Del voto In questo caso Parla Nicola Baiocchi Alla luce Della vittoria Elettorale Del centrodestra A Ancona Baiocchi È convinto I tempi Sono maturi Per conquistare Anche Pesaro Così come Fano Sentono L'impresa A portata Di voto C'è un anno Per lavorare Su quella Che appunto Viene etichettata Come un'impresa Soprattutto su Pesaro Dove è Veramente rimasta L'ultima Roccaforte Di centro-sinistra Dopo che è caduta Anche Ancona Vedremo Quello che succederà In questo anno Che ci divide Anno scarso Che ci divide Dalle elezioni Amministrative E poi Un personaggio Cardine Della storia Del Rossini Opera Festival Come Giovanni Mariotti Gianfranco Mariotti Scusate Sarà Insignito Del titolo Di cittadino Onorario Avverrà Questa Cittadino Onorario Di Pesaro Questa Onorificenza Verrà Riconosciuta Durante la festa Della musica Del 21 Di giugno Villa Marina Operazione Decoro Verranno rimossi I teli Fatti a Brandelli Al loro posto Verranno installati Pannelli grafici Sulle facciate Ancora Molto indietro L'ipotesi Di intervenire Concretamente Sull'ex Colonia Anche se Come detto C'è Un progetto Di 17 Milioni Da parte Dell'Inps Per trasformare Tutto il complesso In un mini Appartamenti Per anziani Inseriti Nel contesto Sociale E urbano Della città Nel frattempo Quest'estate Si vuole intervenire Con la rimozione Di questi Stracci Ci sono altri Modi di definirli Che penzolano Al vento E verranno Ammessi Pannelli Esteticamente Meno Impattanti Passiamo Anche qua La storia Che vi abbiamo Argomentato Ieri sera In apertura Di Tg E anche Nella prima Pagina Del Carlino C'è del tronco Della quercia Che potava 58enne Travolto E muore Schiacciato L'infortunio Sulle pendici Del colle San Bartolo Complesso L'intervento Dei vigili Del fuoco Per liberare Dalla Massa Pesante Del tronco Il malcapitato Mario Zaffini E poi Per la cittadella Dello sport I 4 milioni Non bastano Più Abbiamo Ampiamente Argomentato L'assemblea Di Villa San Martino Dello scorso Lunedì Molto partecipata Quei residenti Che saranno chiamati A prendere una decisione Sul tema Parcheggi Che avverrà Come un effetto Domino Della realizzazione Della cittadella Della cittadella Ma questo articolo Analizza Che anche i costi Sono lievitati Alla luce Di alcuni Rincari E dunque Non basteranno più A quanto pari 4 milioni di euro Non è ancora chiara La cifra Che servirà Per completare I lavori Lavori Che invece Stanno per partire Alla stato Della madonnina Dei cappuccini Ve ne abbiamo parlato Ampiamente Nel nostro telegiornale Grazie a Lenco Renco e Lions Danneggiata Si interviene Sulla stato Danneggiata A novembre E simbolo Del sisma Davvero Una bella Iniziativa Su Quello che è Diciamo Un biglietto Di benvenuto Un'immagine Di benvenuto Nell'accesso Al centro storico Venendo Attraverso Il cavalcaferrovia E dunque Questa Immagine Di Madonnina Semidecapitata Potrebbe essere Una delle ultime Perché si interviene Per provare Per restituire Il Volto Originario Di questa Statua Che fu Inaugurata Nel 1959 Ed ora Passiamo A Fano Con questa storia Deruba e picchia La madre per l'eroina Lei lo denuncia Per cercare Di salvarlo L'abbiamo Ve l'abbiamo raccontata Anche nel Carlino Davanti al giudice Un 26enne fanese La donna invitata A testimoniare Decadono però Alcune accuse Altra storia Di tribunale Che riguarda Mondolfo Tentato stupro È irriperibile Da nove anni L'imputato E il reatro Viene prescritto Si tratta Di un 46enne Senegalese Che avrebbe Appunto Tentato lo stupro Su una donna Nel 2014 Come detto A Fano La politica È quanto mai Rovente Il centrodestra Dice Sere si dimetta Per Lega Movimento 5 Stelle La scuola È prioritaria Il sindaco Senza maggioranza Dopo la variante Promessa in campagna Elettorale E qua Vedete la bocciatura Sul supermercato Di Centinarola Centro-sinistra Sfaldato E PD Spaccato Come vi abbiamo Già argomentato Anche sul resto Delle Carlino E poi Ritardo Nello smaltimento Dei mobili Degli alluvionati Parla Una notizia Che riguarda Marotta Il portavoce Del comitato Di Via Ferrara Segnala Il problema Igienico Ancora più Pesante Con l'aumento Delle temperature E dunque Si segnala Questo Mancato Recupero Dei mobili Degli alluvionati Accatastati Ma non ancora Non ancora Appunto Raccolti E smaltiti Sanità Fossombrone Reperibilità Del 118 Soppresse Per l'apertura Di altre due Potesi Il provvedimento Per infermiere E autista Delle postazioni Di Cagli E Fossombrone Questo Un effetto Domino Che riguarda Un depotenziamento In queste zone Della nostra provincia E poi Una notizia Dai tribunali Che riguarda Tavuglia Tormenta Per dieci anni Il vicino gay Pensionato A processo Per stalking Minacce Insulti E appostamenti Una persecuzione Che ha costretto La vittima A cambiare casa Si tratta Di un 42enne Parrucchiere Preso Di mira Da un 64enne Questa L'età attuale Ma a quanto pare Persecuzioni Che durano da dieci anni Dunque Che veramente Hanno attraversato Le vite Di queste due persone Che ora vanno A processo Stiamo per andare Sulle notizie sportive Non prima però Di aver dato Il buongiorno Ai tanti Che come ogni mattina Ce lo rivolgono Attraverso la nostra Pagina Facebook E allora Salutiamo Anche questa Mattina Michela Che ci saluta Da Borgo Santa Maria Buongiorno Buongiorno a Luigi Da Osteria Nuova Buongiorno a Ganesh Vurnat Bundun Buongiorno a Dornella Buongiorno a Tiziana Buongiorno al dirigente Dell'alberghiero Santa Marta Roberto Franca Che ci saluta anche lui Ogni mattina Buongiorno a Fiorella Buongiorno anche a Paola Pamela Buongiorno ad Antonio Da Morciola Buongiorno al consigliere Comunale Daniele Malandrino Buongiorno a Danna Dalla zona della celletta di Pesaro Buongiorno a Giovanni Da Borgo Santa Maria E poi ancora A Ines Che ci segue Dal porto Di Pesaro A Lorenzo Buongiorno Anche a Luca Ci segue Da Morciola In tanti Seguite dal territorio Di Vallefoglia Pian del Bruscolo Ne siamo davvero contenti Buongiorno ad Almerina Buongiorno a Danilo Da Petriano Buongiorno a A Gabriella A Filippo E a Piero Davvero Un cordiale saluto A tutti voi In questo primo giorno Del mese Di giugno Giugno Di sport Che comincia Con l'annuncio Del nuovo allenatore Della Vis Pesaro Che è una conferma Una conferma Per certi versi Sorprendente Perché Mister Banchieri Allenato la Vis In tre partite Che sembravano Un Un semplice Traghettamento Verso i play out E invece Diventarono Decisive Anche grazie A questo Personaggio Fin qui In sordina Perché ha vissuto In perenne Silenzio stampa Le prime parole Le ha rivolte Ieri Con La La presentazione Nella sede Del vis Pesaro E dunque Contentissimo Banchieri Dice Resto la vis Un grande club Se si ottengono Risultati Perché ci sono Staff e società Alle spalle Il futuro Sarà giovani E sacrificio Banchieri Piemontese Che avrà Un contratto Fino al 30 Giugno 2024 Fano In smobilitazione Parla Capezzani Che dall'addio È stato bello Ma ora ho altre proposte Stagione fantastica E mi sono perso Il meglio Per il fortuno Peccato Per l'addio Di Russo Ora mi guardo Attorno E poi Little Service Che dopo la salvezza Comincia con le conferme Vengono annunciate Quelle di due pezzi Importanti Come De Oliveira E Murillo Schiochette Che dunque Saranno parte Della squadra Pesarese Di Calcio 5 Anche nel 2023 2024 E poi Il bilancio Di fine stagione Della VL Quello del vice coach Savignani Grazie VL Stagione fantastica Repesia Mi ha fatto crescere Pronto a restare E orgoglioso Di essere Stato ricontattato Anche dalla nazionale Brasiliana Un'intervista A 360 gradi Su quelle che è stata Questa esperienza Di Savignani E poi Una storia raccontata Dal Carlino Quella di una vincente Ciclista pesarese Alice Palazzi Una sola donna al comando Straordinaria impresa Della 21enne Che vince i Gran Premi Della montagna In Germania Dice ancora Non riesco a crederci E dunque Andremo E si può andare A conoscere Questa sportiva Emergente Del nostro territorio Nel ciclismo Femminile Volley femminile Quello della Megabox Che continua Ad allestire La squadra Per il prossimo anno Il nuovo libro È Sara Panettoni Qui per crescere Ingaggiata L'atleta da Firenze Che nell'ultima stagione Ha collezionato Solo 12 errori Il presidente Angeli Dice È il tassello Che fa per noi E poi Lo sport Del corriere adriatico Anche qua Partiamo Dalla Vis Avanti Con i banchieri Qui c'è un bel progetto Prima conferenza Del tecnico Che racconta Aneddoti Ed emozioni del suo mese A Pesaro Presentato dal DS Menga Anche lui Confermato Che arriva a Dito Nel nostro piano Sarà una vis Giovanissima E come detto Con un budget Ancora più Ristretto Ripescaggi Il Fano Può sperare Questo articolo Spiega Come possa ancora Auspicare Ad un ripescaggio In Serie C Sempre molto complicato Attraverso i playoff di D Ma l'interrogativo E cosa farà Il presidente Russo L'ipotesi di un ritorno Non è campata In aria Quest'articolo Di Lorenzo Toresi Spiega Per quegli motivi Attraverso i criteri Della FIGC E poi Anche qua Si parla Delle conferme In casa Italservice Doppia conferma Schiochette Più dell'Oivera Primi movimenti ufficiali Dell'Italservice Annunciati Dal direttore generale Nicola Munzi E poi Altri partner Di lusso Per questa squadra Pesarese Che il prossimo anno Affronterà La Serie C Unica E questa è l'ultima notizia Di questa odierna Rassegna stampa Di giovedì Primo di giugno Prima dei saluti Andiamo a ricordarvi Alcuni appuntamenti Sulla nostra emittente Sul nostro canale Ottanta A cominciare Dalla replica Di Amministrando Programma Che va in onda Tutti i mercoledì Che ci porta Alla conoscenza Dell'attività politica Amministrativa Dei nostri comuni Della nostra provincia E della regione Marche Come in questo caso Il nostro Antonio Astuti Ha raccolto Impressioni Pareri Aneddoti Di Andrea Biancani Consigliere regionale Del Partito Democratico Potete rivedere in replica Amministrando Oggi alle 19 Poi domani alle 22 Sabato alle 12 Domenica alle 19.30 E lunedì alle 15.30 Prima di una nuova puntata Di Amministrando Che arriverà Come ogni mercoledì Alle 21.20 E poi Andiamo alle 20.10 Di questa sera Dove andremo ad approfondire L'agricoltura di domani Con vivi Le opportunità del PSR Marche Incontri di presentazione Delle nuove missioni 2023 Appuntamento che abbiamo Seguito a Urbino Presso la cooperativa Terra Bio A seguire Alle 21.20 L'inaugurazione Il nostro speciale È dedicato All'inaugurazione Del Parco Giochi Della nuova tabella Sentieristica Rifugio Chalet Principe Corsini Sul Monte Nerone Dunque Una montagna Sempre più A portata Di bambino E anche Che implementa I suoi servizi Per gli escursionisti E ancora Alle 21.40 Approfondiremo La visita Di Capitan Acciaio Questo personaggio Legato al Consorzio Ricrea Che ha premiato A livello nazionale I risultati Di Pesaro Nella raccolta Differenziata Degli imballaggi Dell'acciaio Approfondiremo Questa tematica Alle 21.40 E poi Ve lo ricordiamo Ancora L'abbiamo fatto In apertura Di trasmissione Ma è quanto mai doveroso Prendere nota Dei nuovi orari Di Rossini News Questa sera La prima edizione Col nuovo orario Quello Delle 19.30 Un anticipo Un cambio di abitudini Di appena 10 minuti Prima edizione Anche con diretta Facebook E poi le repliche 20.30 23.30 Mezzanotte e mezza E il giorno seguente Alle 6.30 E 13.30 Nuovi orari Dal mese di giugno Ma lo ricordiamo Né Buongiorno Rossini Né Rossini News Andranno in onda Domani In quanto giornata Festiva Per quello che riguarda Il 2 giugno Festa della Repubblica L'informazione Di Buongiorno Rossini Di Rossini News Tornerà Lunedì 5 di giugno Con tutte le notizie Più aggiornate E dunque È davvero tutto Per questa mattina Vi ringrazio Come sempre Per averci seguito E vi auguro Un cordiale saluto E un buon proseguimento Di giornata In compagnia Dei programmi Di Rossini TV Ven 기 hatchetai Il 2 giugno Non Do In compagnia Deo Il 2 giugno Deo Ciugno Non Deo Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un giorno nuovo e spero che si adora anche per te.